14esimo del secondo tempo, risultato è fermo sullo 0-0 tra Nardò e Sporting, Altamura, Iesensky e Greenville, Papi, Fiorentino, poi c'è Giorgi, ancora Papi, Alvisano per Bozzi, cerca di mettere palla a terra, lo fa, se ne fa sulla destra Bozzi, entra in area Bozzi, Traversone e Passo, De Benedetto spazza, ma è stata una buona giocata quella di Bozzi, Bozzi ha fatto bene, è stata una buona pensata. Ardò in attacco, De Giorgi, Lungo, a cercare Palmisano, mette fuori, calcio d'angolo, Faccio d'angolo per Imerdò, la banderina, Fiorentino, di testa Bozzi, fuori.